Prima a Fano e poi a Pesero, il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato oggi alcune delle principali realtà del terzo settore del territorio, confluendo poi a pranzo la trattoria sociale del Parco Miralfiore Utopia, progetto di inserimento lavorativo inclusivo, che rientra a pieno titolo nelle politiche del progetto di vita del Ministro che punta a cambiare lo sguardo sul mondo della disabilità. Io credo che davvero ci sia l'opportunità di valorizzare i ragazzi e le ragazze che qua a Utopia portano la loro esperienza ma testimoniano anche che si può fare. Poco fa una ragazza mi ha detto io da cinque mesi sono qua e per me adesso è tutto più bello, io sono più contenta e mi sento anche insomma utile in qualche modo. Quindi questo è quello che noi dobbiamo portare avanti anche con questa riforma importante attraverso il progetto di vita, far passare dal tema dell'assistenzialismo alla valorizzazione delle persone e qua oggi vediamo questo. In tutta Italia incontro realtà associative e veramente dei progetti meravigliosi dove i ragazzi con disabilità insieme al mondo associativo, al mondo del terzo settore e spesso anche delle istituzioni realizzano attività ricreative, sportive e a volte lavorative importanti. Ne testimonieremo di queste realtà anche prossimamente tra pochi giorni all'ONU perché andremo lì con un tema importante che è proprio quello delle capacità e dei talenti nella ristorazione italiana. Progetto Utopia che per il Ministro è senz'altro un modello esportabile e moltiplicabile. Credo proprio di sì, l'importante è anche che si trovino anche nei territori la disponibilità, le persone disponibili a fare rette in questo modo, a fare squadra. Lo dicevamo prima, cioè da soli non si va da nessuna parte, però se ognuno mette un pezzetto, chi sulla formazione, chi sul percorso di affiancamento, perché qua ci sono anche tanti giovani volontari che arrivano dalle scuole alberghiere, ecco, diventa veramente un bel modello che può essere testimoniato in tutta Italia, certamente. Sul tavolo della discussione anche l'eventualità di estensione della legge Comencini. Stiamo lavorando perché ogni persona con disabilità possa avere la possibilità di lavorare, avere una dimensione abitativa conciliata con la vita quotidiana, in base alle proprie competenze, le proprie caratteristiche, le proprie potenzialità e questo lo stiamo facendo anche studiando all'interno di questo modello che uscirà con un bando all'inizio del 2025 alcune possibilità di deroga sulla parte che riguarda la rendicontazione, che riguarda i limiti di reddito e che riguarda anche l'invalidità civile. Ecco, bisogna lavorare in questa direzione anche perché la burocrazia spesso poi ci tiene ostaggi di alcune cose invece noi vogliamo testimoniare sempre di più quanto le nostre comunità possono crescere ed essere coese se non lasciamo indietro nessuno.